C'era una volta un pover'uomo che aveva quattro figli. Sono addolorato. Una persona così forte e battagliera. Forse dovremmo organizzare lo stesso il funerale. No, vuoi farli incazzare anche da morto? Non c'è nessuno che decide per noi. Questo è solo un modo che abbiamo per scaricarci la coscienza. Uno, due, tre, quattro... Guarda, 900 metri quadrati a dieci minuti dal centro. Ma non siamo pronti per un salto del genere. La situazione patrimoniale non è quella che aspettavo. Io non ho più soldi. Ti ho buttati per le tue pellicce, le tue creme, i tuoi trattamenti. Cinque, sei, sette... Sono riprenditi! I debiti si pagano. Va bene? Va bene? Otto, nove, chiesi... Scusi, ma allora dov'è finita la liquidità? Gira e rigira quello che vi resta è questa proprietà. Che bastardo. A me quei soldi servono. Quindi? Una battuta di caccia. Chi prende la prada più grossa si tiene tutto. Susana! Ma che ti vuoi far ammazzare? Ti vuoi sempre dichiarare! Otto compagno di caccia! Ha capito? Sa che lei gli assomiglia tanto... A suo padre.